cari amici oggi parliamo di un obiettivo che tutti i fotografi dovrebbero avere il proprio corredo il 24 70 2.8 Robby aspetta un attimo questo è quello vecchio eh? finora ti sta invecchiare veramente eh ragazzo? scusate ragazzi poi l'arterio mega o panche allora rifacciamo cari amici oggi vi presentiamo il nuovo sigma 24 70 millimetri 2.8 dgdn quindi per fotocamere art sempre sigle corte sempre sigle corte per fotocamere mirrorless sony l-mount vi raccontiamo un po cosa ne pensiamo allora roberto intanto 24 70 mm sono obiettivi a parte gli scherzi che penso che tutti i fotografi hanno nel proprio almeno i professionisti in particolar modo matrimonialisti cioè senza il 24 70 2.8 la fotografia di matrimonio 24 70 70 200 sono obiettivi quasi obbligatori ma sono sempre stati eh? sono sempre stati si si oggettivamente quindi obiettivi importanti e sigma ha appunto deciso di rinnovare il suo obiettivo perché già c'era questo era il vecchio eh? il vecchio adesso non mi sbaglio più il 24 70 adesso vi faremo vedere insomma le differenze anche dal punto di vista costruttivo in termini e dal punto di vista ottico quindi guardatevi la recensione diciamo recensione sapete sono più riflessioni su come una sorta di consigli di acquisti quindi cercheremo di dirvi se vale la pena o no anche perché questa è proprio una domanda proprio precisa no io c'ho 24 70 vecchio conviene cambiare il nuovo oppure oppure rispetto magari un suo originale conviene questo tipo di obiettivo insomma obiettivi importanti 24 70 mm vi ricordiamo che sono fatti da sigma per i mount e l mount quindi per attacco sony e attacco sarebbe più corretto dire per l mount e facciamone anche per i mount esatto esatto l mount è proprio la la sua diciamo parrocchia è la sua parrocchia certo sarebbe sarebbe bello se un domani sigma facesse anche per rf e z perché ma secondo me se gli danno ok nicole canon sarebbe ben contento per ora insomma sappiamo che c'è l'rf canon apsc insomma vediamo nel futuro cosa succederà allora obiettivo quindi dicevo riprogettato della linea art allora Roberto andiamo a bomba su quali sono le principali differenze perché uno dirà ma perché sigma si è messa lì ha investito ha fatto brigato e ha rifatto un obiettivo che bene o male il suo mercato ce la butta e ce l'ha ancora assolutamente sì allora cominciamo dalle differenze costruttive che sono diciamo anche aspetti molto importanti prima di tutto ragazzi è un obiettivo più piccolo quindi questo nuovo 24 70 l'obiettivo più piccolo pesa anche meno sono 745 grammi il nuovo contro gli 835 grammi un etto e si sentono in mano si sentono in mano e la cosa importante ragazzi questo ve lo diciamo da matrimonialisti sul corpo macchina per favore Ernesto sul corpo macchina intanto che racconto è molto importante il bilanciamento chi fa fotografie di matrimonio lo sa molto bene dopo tante ore grazie dopo tante ore che tu stai fotografando soprattutto se non hai il battery grip cosa succede che se hai una lente che non è perfettamente bilanciata col corpo macchina senti ovviamente la tensione e la fatica sul sul polso in particolar modo e la sensazione che si ha ragazzi nonostante lo schema ottico sostanzialmente elementi e gruppi sono più o meno gli stessi però hanno rivisto alcune alcune lenti nel materiale alcune lenti hanno messo delle lente sferiche ma adesso vi diciamo insomma la sensazione che sia più bilanciato questo obiettivo rispetto al vecchio come se il nuovo facesse una sorta di beccheggio diciamo in avanti che ovviamente sforzava un pochino di più il polso piccole differenze per chi lo usa facendo una foto ogni tanto grandi differenze per chi come noi magari nuovo dieci ore la differenza chiaramente importante è un obiettivo anche più piccolo sia per quanto riguarda diciamo lo spessore sia per quanto riguarda la lunghezza quindi è complessivamente più piccolino sigma ha rivisto completamente il meccanismo di zoomata mantenendolo sempre super resistente dal punto di vista dell'affidabilità però è più piccolino e questo ha permesso di ridurre i volumi e ingombri non vi aspettate che sia il 28 70 sigma che è particolarmente compatto e diciamo una via di mezzo tra il 28 70 e il vecchio 24 70 quindi la prima differenza è la compattezza che sulle mirrorless francamente a me fa sempre piacere vedere obiettivi un pochino più compatti ma di qualità la resistenza è anche nella tropicalizzazione che è stata ulteriormente migliorata questo è importante anche perché c'è un nuovo introduzione un elemento fondamentale che è la ghiera dei diaframmi cosa che sul vecchio questa è veramente una delle prime cose che ci ha colpito favorevolmente si praticamente fa il paio con il 70 208 che abbiamo già presentato all'interno del del canale di sigma che ha la ghiera dei diaframmi quindi in sostanza chi ama la ghiera dei diaframmi in casa sigma vi comprate il 24 70 70 208 entrambe lenti veramente molto molto valide e avete anche la ghiera dei diaframmi che è anche decliccabile perché questo è un obiettivo molto adatto anche ai videomaker assolutamente al declic e poi anche il tastino di blocco sì per dire un videomaker difficilmente utilizza la ghiera dei diaframmi è vero che questa volendo è silenziosa però di solito la mette su A e poi o tocca le LCD o ad opera una rotellina per cambiare il video dipende diciamo dalla comunque a tutto quello che serve a tutto quello che serve sì quindi è veramente fatto molto bene e anche il questa è una cosa mi è piaciuta molto ce l'aveva anche il vecchio ma sul nuovo sembra ancora migliore e praticamente c'è il blocco dello zoom e quindi praticamente sapete che gli obiettivi che si estendono se vuole mettete la testa in giù tendono una volta che le hai usate per un po' di tempo quando sono nuovi magari sono un po' più diciamo più di frizionamento la cosa figa che ha fatto praticamente sigma è che tu se hai bisogno anche se ti ha messo il blocco quindi in verticale insomma testa in giù non esce la parte la lente frontale cioè l'esce frontale insomma non si estende lo zoom ma anche avendo il blocco se a un certo punto vedi uno scatto all'improvviso e quindi hai bisogno insomma di fotografare tu praticamente poi in qualche modo forzare diciamo il blocco senza che succeda nulla senza che si rompa e per portare a caso lo scatto perché tante volte roberto in effetti c'è il blocco non lo vedi e queste cose fanno fanno danno fastidio l'altra cosa intelligente che ha fatto sigma su questo nuovo 24 70 e il pulsante f lock nella parte diciamo per un impugnatura verticale perché in verticale vedete va proprio il dito c'è il vecchio ne aveva solo uno il vecchio ne aveva solo uno queste cose voi dite vabbè ma sono piccole cose no ragazzi da un punto di vista operativo ripeto questo è un obiettivo per professionisti soprattutto che devono essere operativi veloci durante gli eventi quindi spesso lavorano ad esempio il fotogiornalista spesso fa orizzontale verticale orizzontale verticale per poter dare al grafico ovviamente del materiale da impaginarla sulla necessità quindi si fa spesso questo lavoro e sinceramente avere a portata di pollice il subito il tasto funzione è qualcosa che sono qualcosa di importante quindi piccole grandi migliorie l'altra cosa importante roberto importantissima e probabilmente io credo che sia la principale ragione per cui sigma questa è la mia opinione personale ha deciso di fare questo upgrade è il tema dell'autofocus perché le ultime fotocamere soprattutto sony ma anche ma anche l'S5 per dire l'S5 seconda versione autofocus molto prestazionale l'SL3 l'SL3 questo questo motore è un HLA rispetto al passo passo lineare che aveva il vecchio esatto dichiarato circa tre volte superiore ma c'è passo anche così all'utilizzo anche più scattante non sappiamo abbiamo fatto un test scientifico per dire se la dichiarazione è vero oppure no la prendiamo per buono però effettivamente è molto molto veloce e comunque sappiate che se avete fotocamere molto moderne soprattutto in casa sony dicevo ma insomma in generale questa potrebbe essere già un'ottima ragione per avere la piena compatibilità sempre dal puntista della costruzione intanto il diametro è lo stesso 82 quindi non preoccupatevi perché giustamente qualcuno dice K però ho comprati i filtri per mi sono svenato e mi sono svenato con dei filtri di qualità ricordatevi sempre filtri di qualità e quindi adesso mi cambia il diametro insomma è un problema no in realtà è sempre 82 quindi non preoccupatevi anche perché sostanzialmente c'è una relazione fisica per cui può cambiare diciamo la struttura del barilotto ma più di quel tanto più di quel tanto comunque l'altro dettaglio ragazzi volevo farvi notare è lo switch a fmf che è stato fatto in maniera tale che tu con il pollice anche senza guardare cioè lo senti e riesci più velocemente a cambiare a fare lo switch voi direte da me ti stai proprio attaccando a delle particolarità no non sono piccole cose perché vi posso garantire che nell'uso poi pratico tante volte magari hai bisogno a me è successo per esempio con alcune fotocamere lmount insomma alcune panasoniche magari contro luce ho avuto dei problemi in un secondo vado in messa a fuoco manuale tra l'altro supporta sia lo switch la ghiera lineare non lineare questo è importante soprattutto per i videomaker e quindi molto comodo così per i videomaker cioè questa è un'altra cosa importante in sostanza è stato ingegnerizzato tutto quanto il nuovo per cercare di migliorare tutti quegli aspetti che andavano migliorati nel modello precedente che comunque rimane ovviamente un ottimo obiettivo fatto in giappone a itzu quindi made in japan qualità costruttiva vi diciamo ragazzi molto convincente cioè ci è piaciuto molto e la sensazione di un step ulteriore si percepisce rispetto al vecchio ha seguito un po' sulla falsariga il nuovo 70 200 come tipologia di costruzione di materiali un'altra cosa roberto che è stata migliorata in questo nuovo 24 70 la distanza minima di messa a fuoco che passa me la di coloro che ad esempio nel caso nostro le fedi no se è tanto oltre fa influsare delle fedi questo è un aspetto che probabilmente siccome ripetiamo è un ottica molto da matrimonialisti sigma ha pensato anche a questo aspetto dal punto di vista interno roberto anche qui c'è stato fatto un miglioramento in per quanto riguarda lo schema ottico che rimane sostanzialmente lo stesso sono 19 elementi in 15 gruppi non cambia lo schema ottico cambiano invece la tipologia dei vetri e sostanzialmente il numero di lenti asferiche che passa da tre lenti a cinque e poi anche la lavorazione più accurata e anche il materiale stesso con cui sono state costruite le lenti ha avuto un upgrade tutto questo si dovrebbe poi trasmettere su quelle che sono le prestazioni ottiche dell'obiettivo soprattutto per quanto riguarda l'aberrazione sferica e quindi miglioramento della nitidezza in particolar modo ai bordi ma anche al centro e in effetti ci è sembrato molto più nitido come nettamente diciamo più nitido ai forti ingrandimenti ovviamente parliamo rispetto al vecchio modello resistenza anche anche se in realtà insomma le diciamo le lenti asferiche non lavorano solamente su questi aspetti perché poi ci sono anche le lenti a bassa dispersione insomma le fld insomma ci sono diverse lenti che concorrono alla riduzione delle aberrazioni cromatiche soprattutto sagittali insomma ha come dire sigma ha cercato di migliorare quegli aspetti soprattutto roberto importante dire questo difficilmente corregibili a livello software sì perché è vero che comunque tantissimi obiettivi moderni delle mirrorless appoggiano tanto sul software per dire la vignettatura mi aggancio già le prestazioni ottiche la vignettatura su questo nuovo obiettivo è più sensibile rispetto al vecchio anche perché questa parte di correzione è facilmente risolvibile via software quello che non è risolvibile via software sono la correzione delle aberrazioni cioè ci puoi mettere una pezza ma se parti male è un casino anche perché è un bilancio molto sottile no se correggi un aberrazione magari vai in discapito dell'altra quello che c'è passo nei nostri test è che la nitinità sicuramente come detto è più spinta no è più croccante a tutte le focali no è vero che comunque anche questo nuovo obiettivo tende a 70 mm quindi a tutta apertura a tutta apertura un pochino ai bordi però ci sta anche no perché 70 è classica focale da ritratto basta che chiudi un paio di stop quindi nitidezza sul nuovo problemi assolutamente assolutamente anche il flare è stato migliorato devo dire la verità sul vecchio secondo me era l'unico punto debole sì non che facesse schifo assolutamente però oggettivamente era rispetto ad esempio al Leica abbiamo fatto un testo a confronto noi due zoom che sono praticamente con lo schematico sono gemelli la differenza si vedeva lì probabilmente nel trattamento anzi sicuramente nel trattamento superficiale delle lenti la differenza c'era anche perché gli ultimi sigma che abbiamo provato il flare problemi assoluti zero e questo si è allineato con la media del prodotto anche la lavorazione delle lenti ci è sembrata migliori con minore effetto cipolla nelle aree diciamo circolari quindi insomma si vede una maggiore cura complessiva per quanto riguarda lo schema ottico un affinamento diciamo dello schema ottico con introduzioni di nuove lenti e lavorazioni di queste lenti soprattutto le asferiche che hanno portato a questo incremento da punto di vista una lavorazione più accurata che ti permette di controllare di più quelle che sono le varie tipologie di aberrazioni no e quindi alla fine cosa hai hai un look più corretto ma davvero cosa ne pensi del look dell'immagine per cui alla fine è quello no che si che può fare la differenza tra la scelta di un obiettivo dell'altro ci sono scuole di pensiero come le nostre che siamo piuttosto vecchiotti che ci piace tanto il look pellicoloso non un po analogico mentre ultimamente le macchine e gli obiettivi tendono ad avere un look più digitale più secco no si e sono diciamo tendenze e scuole di pensiero ovviamente i costruttori orberto si adeguano io ovviamente amo diciamo le ottiche esempio nello sfogato molto progressivo cioè il passaggio dalle zone fuori fuoco le zone a fuoco le zone fuori fuoco personalmente io le gradisco molto hai notato differenze questi due obiettivi ma sono molto vicini diciamo che essendo la nitidezza maggiore nel questo nuovo 24 70 diciamo questo effetto nitido fuori fuoco forse un pochino più marcato ma sono convinto che questa è una scelta da parte di sigma come da parte della maggior parte dei produttori perché l'utente medio tende a preferire questo effetto no di fuocatura selettiva di una specie di effetto pop up no si insomma un effetto proprio di stacco tra zona fuori fuoco la zona a fuoco quindi il comportamento ci è sembrato piuttosto moderno cioè non ha un look tre virgolette analogico ovviamente nel bene e nel male quindi questo per conoscenza per coloro che insomma hanno nel retaggio storico come noi insomma le vecchie lenti analogiche quindi obiettivo moderno come comportamento obiettivo che secondo noi diciamo sigma ha cercato di curare a livello ottico tirando un pochino le somme roberto gli aspetti più difficili da correggere in post produzione vedi la nitidezza vede l'aberrazione sferica vedi anche il flare che è una bella rottura di balle forse è una delle cose peggiori perché se c'è te lo prendi e ciao si esatto e quindi ha cercato di lavorare su questi aspetti magari come dire lavorando un pochino meno un po' sulla vignettatura appena sulla distorsione vignettatura abbastanza sensibile comunque si insomma soprattutto sui corpi però diciamo che quelle difetti ottici che sono risolvibili facilmente a livello software diciamo le ha demandate appunto al software crediamo questa è la nostra opinione ragazzi ma deve anche fare un bilancio no perché anche poi ce ne devi tenere conto dei costi produttivi e del prezzo che poi verrà immesso sul mercato ecco tiriamo un pochino le somme perché poi è quello no c'è la fine allora sono circa 1400 euro insomma più o meno non mi ricordo quella costava il vecchio mi sa poco di meno poco di meno sono poco di meno comunque allora la prima domanda che a questo punto ci facciamo e proviamo a rispondere uno rispetto al vecchio non mi chiedi niente questo è una domanda che stavo facendo a te che speravi di salvarti uno rispetto al vecchio e poi domandona rispetto al 24 le 70 laica che si andrà a aspettare e anche il pana laica e si eppure e beh o d'altro canto chi ha ad esempio l'allemount deve valutare questi tre perché in caso all'allemount tu hai ci sarebbe anche il sony sostanza cerchiamo di ragionarci e dare un consiglio allora a bocce ferme se io non ho niente devo prendere uno zoom e vogliono avere un rapporto qualità prezzo ottimo prendo il nuovo perché in effetti secondo me il nuovo ha prestazioni più che adeguate tenendo conto del prezzo d'acquisto che pensando ai prezzi che ci sono attuali sono gli originali insomma cioè non dico che te lo tira indietro ma quasi anche perché è più veloce più rapido sarà diciamo compatibile anche con macchine che arriveranno fra qualche anno con prestazioni autofocus sempre più elevate e berrazioni corrette bene prestazioni ottiche nitidezza non ne manca certo se uno ama il look tra virgolette analogico pastoso e ha un borsellino pesante se devo scegliere allora prendo il 24-90 Leica ma siamo su un altro mondo costa 3-4 volte tanto invece pensando al Leica il 24-70 il vario Elmerid che abbiamo provato io prenderei questo perché la differenza anzi il 24-70 Leica aveva il vantaggio di essere alla fine più corretto il livello di flare questo ha eliminato questa problematica e sono più o meno sullo stesso livello e spendi meno sì sì sono d'accordo infatti sul per quanto riguarda il 24-90 prenderei il 24-90 sono d'accordo con te se uno c'è i soldi se tra 24-70 Leica questo a me che uno non è fissato col marchio Leica questo è scontato prenderei questo perché risparmi e con quella cifra che risparmi ti fai due Sigma Art F2 che sono la fine del mondo il 35-50 mm con la differenza ci paghi due altre ottiche quasi e c'è un corredino che ci fai di tutto quindi io personalmente prenderei questo qui rispetto al Sony io personalmente prenderei comunque questo qui per la stessa logica perché con quello che risparmi è un millino ti compri praticamente altri due obiettivi che vanno pari pari sul discorso vecchio e nuovo qui il tema un pochino più delicato tu dici io ho il vecchio faccio lo switch sul nuovo esatto e lì un po' io ti posso rispondere io ho il vecchio ok ho il 24-70 passerei a quello nuovo sì passerei a quello nuovo personalmente per una ragione fondamentale per me più che la performance ottica che già era molto buona in quello vecchio anche se facendo chi fa il paesaggio il tema del flare è un tema sensibile quindi deve giustamente valutarlo nel matrimonio a volte ci giochi anche però delle volte ti incazzi anche eh sì insomma può essere un problema ma non è che fosse una cosa tragica no no però diciamo che una performance migliore fa sempre piacere però è proprio l'equilibrio complessivo sul corpo macchina che sembra veramente progettato per esempio la Panasonic S5 no Mark II noi utilizziamo sì è bilanciatissimo è bilanciatissimo alleggerisce un pochino che ad esempio l'S1 l'S2S che sono macchine piuttosto pesanti quei 100 grammi risparmiati 100 grammi bilanciati anche perché ci siamo chiesti come mai è bilanciato perché lo schema ottico praticamente come gruppi elementi è lo stesso no? quindi probabilmente è la struttura meccanica interna che è stato studiato in un altro modo però si sente e poi il fatto che è un pochino più corto e questa cosa ti da meno l'effetto dicevo prima quindi l'effetto leva esatto io personalmente farei questo passaggio anche perché dando il dentro a quello nuovo non è che ci sminchi chissà quanti soldi un pochino ci sminchi come sempre però diciamo è un fatto che uno mette sul piatto magari con 600-700 euro ti lo porti a casa quello nuovo allora se fossi un paesaggista lo prenderei senza dubbio da matrimonialista è una scelta cioè non è diciamo un must però se uno lo utilizza veramente tanto beh quel fattore bilanciamento maggiore nitidezza al centro ad esempio a 70 non è non è male avere un pochino più di nitidezza al centro e i bordi appena appena più morbidi secondo me nella ritratistica moderna è qualcosa che poi perché sempre passando al paesaggista il nuovo obiettivo è dichiarato tropicalizzato in maniera praticamente totale mentre se andate a leggere nelle righe il vecchio è dichiarato tropicalizzato nell'innesto si va bene il secondo sigma l'ha sempre dichiarato dato che si fotografa il paesaggio col brutto tempo giusto Damiano quindi se siamo tranquilli anche per dire un piccolo aggancio il 100-400 sigma è un obiettivo eccellente bellissimo costa poco però in tanti ci chiedono ma non è tropicalizzato può andare bene lo stesso può essere un freno quel tipo di fotografia insomma in sostanza ragazzi abbiamo detto quello che pensiamo su questo nuovo 24-70 sigma ma non ho capito lo prenderai o no? io lo prenderò sì sì io lo prendo a parte da sigma in basso lo prendo sicuro ma a prescindere da quello comunque l'avevo preso prende dei nomi comunque a prescindere da quello secondo me è un obiettivo che per me vale la pena è più piccolino costruito meglio il discorso verticale io personalmente il tasto funziona sull'obiettivo lo utilizza anche molto quindi lo trovo comodo però non è chi ha il vecchio non è che ah se non c'è questo ti devi sparare no sinceramente uno può stare tranquillamente anche con il vecchio oppure Roberto ha detto anche una cosa quello vecchio magari oggi lo trovi lo troverai adesso con il nuovo usato a un prezzo molto competitivo quindi uno può prendersi quello vecchio e vivere felice sereno lo stesso ragazzi la saggezza di Damiano occhio sempre al mercato dell'usato sì quello lì e soprattutto ragazzi risparmiate un pochino non risparmiate tanto sulla qualità della lente perché comunque è alta ma quei risparmi vi permette o di comprare altre lenti ripeto come ad esempio la serie contemporary o la serie art insomma di sigma o altri obiettivi che scegliete voi oppure investire sui nostri corsi online trovate il link in descrizione adesso facciamo un po' di promotion ragazzi anche campano esatto insomma se trovate e avete voglia insomma un po' di tempo per andarvi a vedere i link in descrizione andate sulle pagine presentazione dei corsi insomma valuterete se investire anche su voi stessi va bene ragazzi vi abbiamo detto un po' quello che pensiamo di questo nuovo 24-70 DGDN Art Sigma e fateci sapere invece la vostra opinione oppure se avete delle domande specifiche fatecelo sapere fateci sapere insomma cosa ne pensate ci vediamo al prossimo video ciao ciao